Ciao ragazzi, ben ritornati sul nostro canale, questa è la intro del nuovo video in questo video andremo a pescare sempre la susa, io, Diego e Tommaso e niente, pescheremo dei bei pesci e ci divertiremo un sacco comunque, a voi il video a presto 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 anzi che diavolo Tommy che botta mi ha dato madonna ho detto ma che cazzo allora io ci avevo ho sentito perché io lo strusciavo sul fondo sentivo dal fondo perché dopo dieci volte che c'è ferro sul fondo ho sentito una botta forte allora mi sono fermato ho recuperato dopo dei secondi la canna era piegata così guarda l'hai visto dove l'ha preso? si si ma ma l'hai visto che pesce? si si vuoi dire senti senti il mio filo da 28 l'ho messo a posto l'ho messo a posta era il 28 lo sapevo togli il filo era belluccio fa la fine del chatterbait lo sapevo è stato così dritto? si si ma lo sapevo stava di qui lo sapevo ma l'hai lasciato affondare? si sul fondo lo recupero l'ho fatto anche io prima tutto il tempo lo sapevo lo sapevo tu c'è la trazione belluccio no ma io lo sapevo che stava di qui ma io mi piace tanto però mi piace pescarlo appunto ecco l'ho fatta apposta per vedere se funzionava ancora perché se mi piavi l'altro quando mi salutavi come il chatterbait madonna che pesce era quando mi ha preso col bagagarin percevi la mano che faceva ma poi si sbatteva forte ma che spettacolo lo sapevo che lo piavo lo sapevo era questo era quel bastardo che mi ha rotto il chatterbait ma il ventino te lo lascio più il filo il filo bastardo madonna che botta madato l'ho sentito subito ho detto non è un boccalone uno perché mi tirava al triplo e due perché non veniva galla e l'ho preso sul forno cioè i boccaloni più sul forno ma dopo vengono subito la galla questo col cazzo che veniva galla e poi a un certo punto no se scoccia la canna piano oh l'hai piegata masso masso si mi fa una paura guarda c'è la canna piegata fino al manico io ho sentito una paura per il mio è sulla testa l'ho slabrato che paura che pesce che paura madonna che emozioni ma l'hai fatto un video? si ce l'hai ancora? si le navi no è il record no è il record no è come gli altri è un record? no no la grandezza è no no questo è il mio record è il pazzo ma la che trinca è il calone? si hai preso l'altra volta lo stesso preghi allora ragazzi Roby oggi dammi i numeri no no questo è il mio record no non è possibile oggi dammi i numeri Roby Roby va bene che volo le scarpe da ginnastica le metto più sono un po' pericolosi sono un po' pericolosi eh? le basse? ma dove sta? è quello? guardino te lancio ma nasconda? e no e no che mi sia levato il piumo ma mi piace anche così galleggiante e adesso può tirare Gesù guido va bene guardino c'è un casino Perché si Maglia quanto tira Stai tirando un bordello Sono caduto Fa tu Non è grosso È normale dai Raga Questa si scensura Basso un po' incasinato Aspetta che c'è qualcosa aperto Basso un po' incasinato Ma favoloso Adesso Dammi la mano Dammi la mano Dai Grazie Che basso Raga Io ho dato una vergata Che Sì ma è gigante E' quello che ho slamato L'altra volta Su quella Cover Dai che ci fa la foto Guarda sto canto Mettola dentro Mettola dentro Guardi Vai Mi fai la foto Sì Bello raga Bell bass Fette 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 Come Con la mia Eh Eh Uguali Ragazzi Diego Ne ha preso un altro E siamo Una Siamo una testa Eccolo qua Digi per Diego Comunque è sanissimi Sì sì Non c'hanno davvero niente Vai Release Ecco perché Magno Già Già